Grandi competenze e spirito di squadra per la Juniors Macchitella che ha sbaragliato tutte le avversarie e si attesta al primo posto nella classifica con la speranza di saltare di categoria. Sì, diciamo che i ragazzi ci sono facendo bene, ci sono facendo un grandissimo lavoro, si è formato un bellissimo gruppo, però non abbiamo fatto ancora niente perché il campionato l'altro ieri è stata la prima di ritorno, quindi ancora il campionato è molto lungo, è molto agguerrito perché ci sono le due o tre squadre che sono lì vicino a noi e quindi diciamo che è stato importante iniziare bene il giro di ritorno e ora continuare sempre con lo stesso spirito perché al di là dei risultati l'obiettivo del Macchitella è stato sempre quello di valorizzare molto i giovani e quello che sta accadendo perché ricordo che molti della squadra Juniors hanno già esordito in prima squadra in promozione come primo anno, quindi diciamo che oltre ai risultati sul campo abbiamo questo orgoglio di valorizzare sempre di più i giovani che è una cosa che ha sempre fatto il Macchitella. Consolidare il primo posto in classifica però è importante anche da un punto di vista proprio dell'unione della squadra. Sì sì ma infatti questo, io sono contento anche di questo perché i ragazzi vedo che si allenano con lo spirito giusto e anche fuori dal campo si frequentano e quindi la cosa importante è pure questo dove il gruppo è molto compatto. Quali sono i motivi per cui un giovane si avvicina al calcio e decide di far parte di una squadra così frizzante? Sì di più ho la passione che viene da piccoli appunto del calcio che trasmette anche a un genitore e poi comunque anche il gruppo che ti fa sentire bene e il Macchitella lo ha sempre fatto, almeno per me lo ha sempre fatto e quindi io sono orgoglioso di giocare per il Macchitella. Fate molto spogliatoio? Sì sì, moltissimo, anche sia dentro che fuori dal campo ed è la forza che appunto del Macchitella non abbiamo grandissimi giocatori però appunto il gruppo fa sì che vinciamo le partite e magari facciamo delle belle esperienze anche fuori dal gelo. Massima concentrazione sul campo e massimo divertimento fuori dal campo? Sì sì, assolutamente ed è questa appunto la forza che ci ha fatti arrivare sia con la New York che con la prima squadra.